Musica Cari iscritti eccoci in questa nuova puntata in cui vi dovrò dire un paio di cose Oggi non andrò su nessun gioco, né Geometry Dash, né Pokémon, né qualsiasi altro gioco Ma starò qui sul desktop perché vi devo parlare di alcune cose Allora, siccome il canale ormai sta crescendo tantissimo, siamo arrivati a 34 iscritti mi pare Voglio farvi un piccolo regalo Andrò in live, avete capito bene, sì, in live con il mio amico TheBlackLeox sul server Vi lascio il link in descrizione e adesso devo visualizzare la pagina La pagina, quando aprirete, sarà... ecco il link Ve la lascio anche in descrizione www.hitbox.dv.dv.com Come funziona? Praticamente è... come posso dire... un server dove... io personalmente posso fare il video Quindi praticamente voi entrate, vedete qui il mio video oppure così Quindi il mio sfondo Perché ho deciso di mettere quell'immagine Con il nome, il follower, io mi sto seguendo da solo E qui quello che ci scriverò adesso lo sto ancora facendo Però il live sarà bensì, avete capito bene da prima, sul server con il mio amico TheBlackLeox Qui nella chat potrete scrivere tipo... ciao Vedete? E... poi qui ci sono... non lo so... unsearch E... potete mettere le faccine Io qui posso fare... Ehm... Posso fare queste impostazioni Perché sono... Sono, vabbè, quello lì che fa il live Quindi è normale E qui posso vedere tutti i video che ho caricato Ovviamente qui su Itbox Poi vabbè, su YouTube Ehm... Quindi Adesso il live lo sto decidendo Anzi Decidiamo... lo decido con voi In live Lo voglio fare Domenica Ehm... Non questa domenica Quindi domani Ma domenica 22 se non erro E... L'orario lo sceglierò Anzi Di base, ecco, i dati Domenica Domenica 22 Alle ore 16 Ovviamente la fine non ve la posso dire Perché Come sapete Come ben sapete I live non finiscono Decido io Deciderò io quando finire Fin... 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 Quindi Ehm... Domenica 22 Alle ore 16 .00 Ovviamente Questa pagina Vi lascio il link In descrizione E... Cambiamo il link Il colore del nome Lo mettiamo Nooo Perché ti sei tolto Devo sceglierti No Un bitto questo Ok No Troppo grande Ok Quindi Vabbè Poi metterò tutto io La prossima Quando andrò in live Quindi qui ci saranno pure i tweets Adesso mi collegherò all'account De Twitter Perché ce l'ho ovviamente Vi lascio anche quello Il link in descrizione E... Alla prossima puntata Che credo proprio Che sarà live Anzi No Qualche video Della let's play Ce lo posso fare Quindi Alla prossima puntata Con Ricky Splash Ah E mi raccomando Se volete seguire il live Dovete fare questa cosa Leggete la descrizione E mi raccomando E mi raccomando Alla prossima puntata